Quando ero piccolo mi piacevano i videogiochi, invece adesso sono diventato grande e mi piacciono i videogiochi! Super Cane Magic Zero, un videogioco furbuffo! Cosa succede quando un cane mangia un bastone magico? Boh! Aiutateci a scoprirlo! Dateci dei soldi! In cambio vi daremo delle cose! Incredibile! Ma perché non è gratis il videogioco? Ma lo sai quanto costa fare un videogioco? Boh! 26 euro! Cosa? Il famoso RPG Super Mario Bros. si è costato 200 milioni di miliardi di euro in sviluppo alla Sony! Attenzione me lo sono inventato! Che tipo di gioco è Super Cane Magic Zero? Sarà un action RPG delirante in cui lanci le cose e un cane abbaia molte volte! Con la direzione artistica di Sio e Sio fa la musica e le cose e sviluppato nello studio Evil che vuol dire studio che fa i videogiochi a profumo di banana! Se la campagna va a buon fine il gioco uscirà per PC, Mac, Android e iOS che significa iPhone in nuovo zelandese! Per ora poi vediamo! Ci sono tre meccaniche principali nel gioco! Uno! Lanciare le cose! Due! Credere alle cose! Tre! Il cane magico! Quando il cane magico abbaia succede un casino tipo stai mangiando una bistecca e... E la bistecca è diventata un hamburger di tofu! Terribile! Salva il mondo! Sii coso o cosa e fai le cose! Aiutaci a fare questo videogioco amico! Ti diamo delle cose! Per esempio con soli soldi puoi avere il videogioco che costerà più soldi quando uscirà nel 2015! Ciao sono Roberto Saviano e anch'io ho giocato a questo videogioco bellissimo in anteprima nel futuro! Incredibile! Aiutaci a far diventare questo videogioco la realtà! Papà ho fame non mangiamo da una settimana! Stai zitto il cibo è così anni 90! Sto usando dei soldi per una campagna di crowdfunding nel 2.0 webs! Ecco alcune delle cose che non vedrai mai se questo gioco non viene realizzato il dottor Malvagius! Dinosauri che sputano lava! E la montagna laser! Gli scorpioni! E un cane! La mega arena delle battaglie! Ciao sono Steve Jobs! Non sono davvero Steve Jobs! Ecco della musichina del gioco! Supporta anche tu SupercaniMagicZero! E promettiamo che non ti daremo un pugno! Unico UFO! Unico UFO vesperi! Unico UFO! Grazie a tutti